Amici di Player Inside, bentornati qui nel nostro salottino. Stavolta siamo veramente in una sorta di salottino. Sì, diciamo che potremmo pensare di farli sempre qui, ma il punto è proprio questo, che certe volte l'urgenza di parlarvi di qualche breaking news, che poi merita appunto lo spazio in quello che è una sorta di pur parlay, quindi in un salottino, certe volte ci costringe a farli da casa i video, però forse l'ideale sarebbe farli da studio. Piccola parentesi, per introdurre un discorso tutt'altro che allegro, ovvero il rinvio di Cyberpunk 2077, ed è la quarta volta che succede questo. L'ennesimo rinvio. Non so quante volte, però insomma tante, tante. Esatto, è stato nuovamente rinviato da CD Projekt Red fino al 10 dicembre, quindi non uscirà più il 19 novembre, che tra l'altro è anche la data di uscita della console PlayStation 5. Hanno bisogno di più tempo per lavorare alle varie versioni di Cyberpunk 2077 sulle diverse piattaforme, perché ricordiamo uscirà su tantissime piattaforme, sia di questa generazione che su PC e anche sulle prossime generazioni. Che ormai diciamo siamo nel periodo di transizione, per cui la prossima generazione, la next gen, ormai si può cominciare a chiamare la current gen. Il rinvio di Cyberpunk 2077. Io avallo l'opinione di Corrado Bax, che ha dichiarato appunto questa cosa, cioè secondo lui in un video che ha fatto in estemporanea, secondo lui il rinvio sarebbe da imputarsi come colpa all'uscita di, in contemporanea, di PlayStation 5. E quindi giustamente in CD Projekt Red hanno potuto pensare, ma se usciamo in contemporanea con una bomba come PlayStation 5, ma a noi chi ci caga? Io invece pensavo che avrebbe boostato, cioè avrebbe aiutato in qualche modo l'uscita della console lo stesso giorno. La gente cerca anche dei giochi insieme alla console. Allora, questo potrebbe... Allora, l'idea di DatoBax che mi trova concorde per molti versi, e sarebbe la prima volta, signora, una cosa incredibile, ma secondo me DatoBax era obbligato, non ha fatto un po' di calcio. Non siamo mai d'accordo, però ci rispettiamo. C'è da dire che effettivamente ci sono quelli che acquistano giochi per l'attuale generazione, però da usare sulle console di nuova generazione, ma si tratta di utenti un pelino più avanzati. Però, prendendo per buone le parole di CD Projekt Red, hanno bisogno di più tempo? Ci può stare? Certo che ci può stare. Anche se il gioco è in gold, ragazzi, cioè continuano a lavorare sul titolo. Che vuol dire in gold? Che è nella fase finale, ovvero è pronto ormai per essere pubblicato. Esatto. E quindi proprio è la fase finalissima. E in effetti anche dopo la fase gold, ormai lo sappiamo, i giochi non finiscono mai di essere aggiornati, escono numerose patch anche del day one, anzi ormai è un'abitudine, e anche molto dopo i giochi continuano ad essere migliorati, si spera, e aggiornati continuamente. Quindi si deve sempre lavorare un gioco anche diversi mesi dopo la data di rilascio, la release date. Questo però, diciamo, ha richiesto dei tempi già estenuanti per il crunching, ovvero il crunch. Che cos'è il crunch? Sessioni di lavoro talmente intense che richiedono anche tanti straordinari da parte degli sviluppatori. Che quindi immagino si prolungheranno, cioè queste sessioni di straordinari dureranno fino al 10 di dicembre. E anche oltre. Oltre al crunch, però, io vorrei bacchettarsi di Project Red per un'altra questione, ovvero la comunicazione. Sì. Non lo so, non mi è piaciuta, perché io capisco l'entusiasmo che hanno voluto veicolare con i loro comunicati, però questi continui rinvii non fanno bene al pubblico, perché poi va a pensare male. Cioè, forse sarebbe stato preferibile puntare ad una data di lancio più in là nel tempo, meno ottimistica, piuttosto che fare sì continui rinvii. Adesso si viene a creare una situazione particolare, perché parliamo un attimo dell'hype, che secondo me non è aumentato a dismisura, come dicono alcuni. Cioè, adesso, sostengono alcuni, l'hype è aumentato talmente tanto, che se il gioco dovesse avere anche un minimo difetto lo noteremmo. Secondo me, al di là dei difetti, che ormai, se ci sono o non ci sono, vabbè, il gioco potrebbe comunque essere valido, perché non è che stiamo a guardare il pelo, non lo facciamo con nessun titolo, figuriamoci per un titolo che sembra veramente comunque molto promettente. Ma al di là di tutto, io ho letto tanti commenti, dopo che noi avevamo pubblicato la notizia sulla nostra pagina Facebook, Player Inside, che sostenevano io ho disdetto la prenotazione, io ormai a sto punto non lo aspetto più, a questo punto mi codo la next gen e non mi gioco Cyberpunk, ormai lo prenderò quando scala di prezzo. E posso dirvi la verità, quando ho saputo dell'ennesimo rinvio, io stesso ho pensato, ok, è il momento di smorzare un attimo l'hype, concentriamoci su quello che c'è adesso, c'è tanta roba, c'è tutta la next gen, ci saranno Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion. No, ecco, io invece non ho smorzato... Ci passiamo dopo. Non mi si è smorzato per niente l'hype. Psicologicamente in un attimo sì, poi dopo vediamo. Però ho pensato un po' dentro di me, ragazzi, non mi odiate, ho pensato, meno male... No, quello è un altro discorso, Midran. Meno male... Quello è un altro discorso. Perché così posso giocarmi con calma, Yakuza, Like a Dragon e anche Assassin's Creed Valhalla. Perché è un altro discorso? Perché... ma quello è un discorso totalmente nostro, che non dovrebbe riguardarvi e saremmo dei criminali a comunicarvelo, però lo facciamo perché tanto condividiamo con voi nella massima trasparenza tante cose. Appena ho saputo il rinvio, ho tirato un sospiro di sollievo perché altrimenti novembre sarebbe stato pieno di lavoro per noi. Sì, recensioni da fare. Una recensione come quella di Cyberpunk, non so a che recensioni siate abituate voi, eh? Eh? Però il gioco si deve finire. E un gioco come Cyberpunk non solo ci vuole tanto per finirlo, ma non è che poi lo finisci e te ne esci, devi affrontarlo anche in tante sue parti. Ma poi la concomitanza con Valhalla, insomma... Esatto, quindi si veniva a creare quella congestione di titoli con tutta la line-up di PS5, la line-up iniziale di Xbox Serie X, che non è folta, ma comunque devi provare la console, devi fare vedere, eccetera. Insomma, più i titoli nuovi, si veniva a creare una situazione di congestione poco favorevole a quello che è il nostro lavoro, e il lavoro anche, salutiamo, siamo solidali di tanti redattori, di varie riviste, però almeno quelli sono una redazione, noi siamo due, e quello è il discorso. Esatto. Ma questo è un pensiero del tutto personale, non ci prendete in considerazione. No, assolutamente. Ci sono state quindi reazioni contrastanti a questo nuovo annuncio di questo rinvio. Quindi, ragazzi, vogliamo anche sapere la vostra opinione, come l'avete preso, se avete addirittura disdetto la prenotazione, bestemmiato, oppure se non vi importa, oppure se avete aumentato questo hype, o se vi è diminuito. Io ho avuto, ragazzi, mi tremo a dire quello che vuole, perché lei è lei, io sono io, non siamo sempre players. Io ho reagito inizialmente con, ok, smorziamo un attimo l'hype, allora, a questo punto. Cioè, a questo punto ci penserò dopo a Cyberpunk, per adesso, se permettetemi, concentro su altro. Tanto è stato rinviato. Signori, inoltre, vi ricordo che dobbiamo sempre prendere in considerazione l'idea che parte del team sta lavorando da casa, per la questione Covid. Non possiamo ignorare questa cosa. Esatto. C'era gente che non ci credeva, dicevano, eh, però in Polonia in realtà non c'è il coprifuoco, non c'è il lockdown, non c'è niente. Sì, però non lo possiamo sapere come abbia scelto di lavorare CD Projekt, se magari per salvaguardare i suoi dipendenti li sta facendo lavorare in smart working e questo, ragazzi, richiede tempistiche molto più elevate perché non si è lì gomito a gomito a lavorare. Esatto, è vero. Insomma, rispettiamo, ragazzi. Noi rispettiamo un team che stimiamo e che apprezziamo. Ok, forse possiamo storcere il naso dinanzi a certi fenomeni di crunching che però, quantomeno, almeno loro li hanno dichiarati e hanno dichiarato che purtroppo sono inevitabili. C'è Jason Schreyer di Kotaku che sostiene che invece vadano avanti da un anno, ne abbiamo già parlato, di questo però, su questo ci torneremo in futuro. intanto abbiamo questa situazione, quindi hype smorzato oppure no? Vi interessa la cosa oppure no? Non ve ne sbattere niente oppure no? Io mi faccio un'altra domanda. Ma quindi sappiamo già qual è il Game of the Year? Perché ormai uscirà dal Game of the Year? Ma che c'entra? Vabbè. Non per noi, dico per i Game Awards. A parte che è o Fast and Furious Crossroads oppure Man Eater, anche se Man Eater non è male. Però è uno di questi. Non lo so, mi sembra già abbastanza scontato come andranno i Game of the Year quest'anno. Perché tu dici, si è tolto dalla bagarre. Eh sì, perché ancora poteva rientrare uscendo a novembre. Io credo che questo non sia una cosa su cui fare affidamento come possibile motivazione per il rinvio. Secondo me è tutto quello che abbiamo detto. No, non è che volevano uscire dal Game of the Year. Ah, tu dici, però non fatto apposta. No, semplicemente adesso, mentre prima avevamo il dubbio del risultato dei Game Awards, adesso non c'è più il dubbio. Signori, questa discussione poteva essere esaurita in cinque minuti, forse tre. Siamo messi a chiacchierare. Però ecco, il bello del salottino è questo che sono idee in libertà, un po' come facciamo spesso in live, però in live lo facciamo con voi in diretta. Ed è una cosa fantastica. Quindi mi raccomando, seguiteci anche in live su Twitch, vi lasciamo il link nel primo commento in evidenza. E a proposito, ragazzi, ci vediamo stasera in live alle ore 21 perché giocheremo alla grande a Watch Dogs. alla grande. Ma proprio ragazzi, non avete idea. Non avete idea. Ciao.